Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Allora oggi vi porto un altro articolo del maestro Emanuele Giordano che commenteremo poi insieme e che secondo me è molto molto interessante perché quest'articolo si intitola Karate e danza di Okinawa, due facce della stessa medaglia. In realtà il titolo originale è Arti marziali e danza, due mondi solo apparentemente distinti tra loro. E ora andremo proprio ad analizzare quello che è il rapporto che intercorre tra arti marziali e danza. Infatti noi quante volte magari abbiamo sentito dire bellissimo questo katà, bellissima questa forma, sembra una danza. E chissà che questo modo di dire che sentiamo molto spesso non abbia in realtà un fondo di verità. E adesso andiamo un po' ad analizzare la questione. E qui il maestro Emanuele Giordano esordisce così. Cari lettori, oggi voglio usufruire, per introdurre il tema del quale ho deciso di parlarvi, di un video che sicuramente mi aiuterà ad addentrarmi in quella che è senza dubbio una questione abbastanza delicata e soprattutto parecchio complicata da esporre, in quanto non ci sono fonti storiche che possono testimoniare con assoluta certezza che le arti marziali e la danza d'Ekinawa si siano aiutate vicendevolmente a sopravvivere nel corso del tempo. Però, grazie a tanti studiosi e praticanti, possiamo dire che ci sono sicuramente delle indiscutibili affinità tra queste diverse arti. Il video è un... qui parla praticamente di un video che ha linkato, cioè un breve trailer di un documentario intitolato Warriors of Budo, quindi Guerrieri del Budo, che è possibile acquistare sul sito ufficiale del produttore, va bene? Comunque, nel caso magari vi metto il link in descrizione. Nel breve trailer, la protagonista, Taeko Ebata, praticante di danza kinawense, di kobudo e anche di karate, illustra brevemente alcuni movimenti svolti nella danza che in realtà nascondono un significato applicabile al combattimento. Questo ci permette di avventurarci nella difficile ricerca dei fili che tengono legati danza ed arti marziali. poi qui ci parla di un video che però non so se riesco a linkarvi, non credo, che il maestro Mario Giordano qui spiega. Questo video ci ha brevemente dimostrato come un praticante di danza di arti marziali e kinawense sia in grado di riconoscere quali componenti esse hanno in comune. E vabbè, comunque, ripeto, non so se riuscirò a rincarvelo questo, quindi magari saltiamo un po' questa parte, anche perché magari senza vedere il video non ci si può rendere conto, quindi è come se parlassi un po' al vento. E qui prosegue il maestro Mario Giordano Ora desidero, prima di approfondire la danza kinawense, esprimere una persona all'osservazione in merito ad alcuni movimenti che trovo molto simili nella pratica di queste arti. Quindi il maestro Mario Giordano trova inevitabilmente delle analogie, in qualche modo. E qui dice Ho avuto modo di vedere dal vivo una dimostrazione di alcune delle diverse forme di danza tipiche dell'isola giapponese davanti al castello di Shuri che, come sappiamo, purtroppo un po' di mesi fa è stato, diversi mesi fa, è stato distrutto in un terribile incendio. Oltre ad avermi affascinato per l'apparente facilità d'esecuzione che in realtà nasconde un lungo studio ed un costante allenamento sono rimasto molto colpito dall'osservare come alcuni movimenti mi ricordavano delle posizioni o delle tecniche presenti nei kata sia del karate sia del kobudo. Quindi la famosa arte che si pratica con le armi bianche. Grazie alla macchina fotografica con la quale sono riuscito ad immortalare alcuni di questi movimenti posso ora condividere con voi alcune considerazioni. E qui comincio appunto con alcune considerazioni che adesso devo analizzare. Prima considerazione, fluttuazione. Infatti qui si parla dell'ukiyashi, ovvero piede fluttuante. Ukiyashi, in lingua giapponese, è un termine utilizzato per descrivere una posizione che prevede l'utilizzo della punta del piede ma che ha anche altri significati in base al contesto in cui la parola viene utilizzata. Nel nostro caso, visto che stiamo parlando di arti marziali, questo termine indica proprio una posizione nella quale uno dei due piedi non viene radicato a terra, rimanendo appunto sollevato con solamente il calcagno alle dito del piede a contatto con il suono. A livello marziale questa posizione è stata molto criticata da alcuni grandi artisti marziali e non posso non citarne due. Sì, è il primo a porre l'attenzione su questa posizione considerandola da evitare nel combattimento fu Miyamoto Musashi, il celebre Miyamoto Musashi, che in Giappone è considerato il miglior spadaccino della storia del sollevante, come tutti noi artisti marziali sappiamo, penso. Nel suo famoso Libro dei Cinque Anelli, il soldato e scrittore giapponese, nato nel 1584 e morto nel 1645, inserisce questa posizione insieme ad altre due, in quelle che possibilmente sarebbe meglio non utilizzare per non rischiare di perdere in combattimento. Scusate, è entrata un attimo mia madre in camera. Allora, dicevamo, il secondo artista marziale che ha fortemente criticato questa posizione è stato Motobuchoki, importante figura nel mondo del karate, che attribuiva alla posizione Inukiyashi un difetto per lui troppo importante, ovvero quello di non garantire stabilità. Motobuchoki, ricordiamo, grande ispiratore di Maurizio Di Stefano e ovviamente vi invito ancora a iscrivervi al suo canale se non l'avete ancora fatto, Karate Cultura Italia, tra l'altro con Maurizio Di Stefano ci vedremo domani in videoconferenza per un evento molto interessante, che può sembrare quasi sfibrante, cioè cento ripetizioni di un singolo katà. E spero che saremo collegati in tanti perché sarà un evento molto bello e anche una sfida molto affascinante. Spero poi di arrivare vivo al termine di questa manifestazione a distanza. Ma io sinceramente non vedo l'ora. Quindi andiamo avanti. Per lui quindi chi la utilizzava aveva scarso equilibrio e sarebbe stato facilmente abbattuto. ovviamente, dopo aver letto queste valutazioni da parte di due uomini famosi per le loro abilità in combattimento, sorge spontaneo pensare che effettivamente questa posizione sia da non utilizzare. Eppure ci sono esempi nei quali l'Ukiyashi ha in realtà dei punti di forza che possono rivelarsi invece utili durante un combattimento. Per quanto riguarda il Karate, fu soprattutto Anko Itosu ad utilizzare questa posizione, che oggi è facile ritrovare nelle scuole di Shorinryu, soprattutto quelle derivate dagli insegnanti di Choshin Chibana, di cui abbiamo già parlato in un mio video a dicembre scorso. La posizione con il piede fluttuante ha in realtà diversi punti di forza, tra i quali spiccano quello di permettere maggior mobilità al corpo e quello di consentire un raggio di difesa d'attacco più ampio. Ho trovato interessante, dice il maestro Amaro Giordano, sul libro La Potenza Segreta del Karate di Kinawa di Kiyoshi Arakaki, la quale ho scannerizzato anche la foto del maestro Chibana, la parte che parla della fluttuazione come il principio più importante per il lottatore di sumo. Questo dimostra come questa posizione non sia del tutto sbagliata e controproducente. Osservando danzare quelle graziose figure sul palco davanti all'ingresso dell'antico palazzo del re di Okinawa, notai subito che questa posizione veniva utilizzata di frequente, soprattutto prima da alcuni cambi di direzione, che richiedevano uno spazio ristretto di movimento e che rendevano necessario un cambio di bilanciamento del peso sulle gambe. La gamba che prima poggiava con solo le punte dei piedi, subito dopo diventava quella che reggeva la maggior parte del peso corporeo. Questo è sicuramente un pregio di questa posizione ed è un principio molto utile se usato in combattimento. Ed ecco che la danza e le arti marziali si incontrano, si fondono. Seconda considerazione. Scivolamento Giapponese è chiamato Tsuriyashi che è il tipico modo di camminare utilizzato anche nelle danze giapponesi e che appunto noi utilizziamo anche noi nel Karate. Tsuriyashi è un termine giapponese che indica un particolare modo di camminare. Nel libro Karate do il mio stile di vita di Jikin Funakoshi libro che tra l'altro possiedo e anzi a proposito di questo io stavo quasi pensando di avviare una serie di video in cui vi leggerò diviso in diverse parti il libro di Jikin Funakoshi Karate do il mio stile di vita diciamo che farò un po' come il maestro Maurizio Di Stefano che sta facendo questi video in cui sta leggendo questo meraviglioso libro Jikin no Ken diviso in varie parti la differenza è che lui lo legge dal giapponese all'impronta io mi rimetterò a leggerlo in italiano perché sapete io sono un comune mortale mica come cervelloni mica cervellone per esempio come il maestro di Stefano quindi dicevamo nel libro Karate do il mio stile di vita di Jikin Funakoshi l'autore nonché padre del karate moderno nomina questa sorta di passo scivolato testuali parole proprio passo scivolato dice definendola come un'abitudine in voga durante gli anni della sua giovinezza ma che gli utilizzò anche in età avanzata questa camminata è ancora oggi utilizzata nelle danze giapponesi nelle forme teatrali tra cui spiccano la no per quanto riguarda il Giappone continentale e la kumiodori tipica invece dell'isola d'Okinawa questo modo di muoversi richiede molto allenamento ed è caratterizzato da passi molto corti che prevedono un minimo se non nullo sollevamento del tallone in modo da far scivolare il piede parallelamente al suolo per riuscirci più facilmente è consigliabile inclinare leggermente il corpo in avanti e piegare leggermente le ginocchie in modo da permettere alle caviglie di muoversi nella maniera sopracitata e quindi nasce un po' la domanda cosa accomuna questo modo di camminare dell'arte marziale? chi pratica o ha praticato karate o kobudo sicuramente ha più volte sentito dire dal proprio maestro che negli spostamenti bisogna cercare di mantenere l'altezza del corpo sulla stessa linea evitando il famoso effetto sali-scendi che modificano il baricentro allo stesso tempo ci dovrebbe essere stato insegnato che il modo di avanzare di indietreggiare o di muoversi in qualsiasi direzione in queste arti marziali deve essere caratterizzato dallo scivolamento da un punto all'altro passo dopo passo evitando di sollevare troppi piedi dal pavimento rischiando di perdere il contatto con esso e diventare in questo modo vulnerabili lo tsuri-ashi è sicuramente una caratteristica che accomuna la danza le arti marziale okinawensi e giapponesi ed una pratica corretta di questa antica camminata può sicuramente migliorare l'efficacia del karate del kobudo e in generale di qualsiasi altra arte marziale e arriviamo qui alla terza considerazione ossia la stabilità e qui andiamo a parlare di una particolare posizione del karate che è il kosadachi che è una posizione che possiamo trovare sia nel karate che nel kobudo ed è contraddistinta dall'incrocio delle gambe andando a ricordare una X una delle due gambe supporta la maggior parte del peso corporeo mentre l'altra rimane più libera di muoversi anche se aiuta a creare stabilità fornendo supporto alla prima questa è una posizione di transito nel senso che difficilmente la si può utilizzare rimanendo statici possiamo dire che è indicata quando ci si trova in un contesto dinamico nelle arti marziali lo studio la pratica e l'utilizzo di questa posizione ha un importante obiettivo ossia quello di creare una struttura solida da utilizzare in un contesto movimentato dove è necessario cambiare posizione e direzione in modo rapido ad esempio di un avversario da cui difendersi prendendo come esempio la tecnica eseguita nella foto del maestro Cibana che corrisponde al primo movimento che si esegue nel kata Itosuno Passai uno dei kata antichi da un punto di vista applicativo in quel preciso istante immortalato l'importanza della stabilità della struttura quindi tutto il corpo è fondamentale per resistere ad un attacco ma proprio grazie al fatto che la maggior parte del peso è sostenuto da una gamba è possibile utilizzare l'altra per effettuare uno spostamento del corpo quindi tai sabaki in giapponese nel karateno utilizziamo proprio questo nome per rispostamenti e il tutto può che avviene con una buona velocità ovviamente osservando la danza okinawense dice il maestro Emanuel Giordano ho potuto osservare in più di un'occasione l'utilizzo di questa posizione quasi sempre questa veniva assunta proprio prima di un cambio di direzione come dimostrato nella foto dove la danzatrice assume questa posizione anche l'utilizzo delle armi in questo caso un EQ ovvero il remo tipico dell'isola prevede lo stesso utilizzo del corpo e quindi le stesse posizioni che si possono trovare quando vi sono le sole mani nude e questo mi apre la porta per un'ultima considerazione ci dice il maestro Emanuel Giordano che è la quarta che riguarda le armi infatti per esempio ricordiamo che attrezzi di uso comune della popolazione di Okinawa sono ad esempio un remo ed un cesto ad esempio ma adesso andremo più nel dettaglio gli attrezzi utilizzati nelle mansioni quotidiane della popolazione dell'isola hanno un valore molto importante nella danza locale in quanto essi sono il simbolo di alcuni tra i lavori umili rappresentati dai danzatori e dalle danzatrici nel caso della foto da me scattata a cui dice il maestro Emanuel Giordano che potete vedere appena sopra ci mostra uno dei lavori più comuni sull'isola ovvero il pescatore come possiamo vedere una delle due donne ha in mano un remo mentre l'altra anche se nascosta in parte dal palo tiene tra le mani un cesto in cui presumibilmente venivano messi i pesci pescati alcuni attrezzi di utilizzo quotidiano vennero trasformati da chi ne aveva la competenza in armi che potevano essere letali in combattimento come ben sappiamo ad Okinawa vi furono diversi divieti di possesso di utilizzo di armi quindi cittadini che possedevano conoscenze marziali in quanto ex nobili o guerrieri trovandosi disarmati dovettero elaborare ed applicare i principi delle armi tradizionali a semplici attrezzi che potevano facilmente reperire e che spesso erano attrezzi indispensabili per la vita di tutti i giorni quindi per la vita quotidiana poi la foto di cui vi leggevo prima è questa non so se non so se riuscite a vederla appunto qui sono i tipici attrezzi di cui parlavamo prima spero che siate riusciti a vederla nel caso non ci fosse riuscito mi scuso già in anticipo visto che è già capitato un'altra volta osservando l'utilizzo del remo durante l'esibizione di danza dice il maestro Mano Giordano ho notato alcuni movimenti molto simili da alcune tecniche usate da praticanti di gobuto mentre padroneggiano quest'arma molto particolare sicuramente il rappresentare l'utilizzo di alcuni di questi attrezzi che nelle mani giuste potevano essere delle tali armi utilizzavano movimenti più lenti tipici della danza utilizzando scusate movimenti più lenti tipici della danza può nascondere la pericolosità mantenendone vivi però i principi marziali e qui il maestro Mano Giordano ci dice di non essere in possesso di abbastanza informazione di non conoscere la danza di Okinawa abbastanza bene per poter con certezza dire che le riflessioni che si è permesso di fare siano accurate in piena sintonia con quella che è la realtà però ci dice il maestro Mano Giordano sono abbastanza sicuro che le somiglianze che ho notato esistono tra danze e arti marziali nate su quell'isola sono abbastanza evidenti appunto basandomi inoltre continuo del maestro Mano Giordano su alcuni studi fatti da esperti che sono riusciti a trovare delle connessioni tra queste due realtà posso dire che sicuramente karate kobudo e danza hanno delle radici in comune e probabilmente tutte e tre esistono e sono mantenute nel tempo grazie alle altre ora per concludere dice il maestro Mano Giordano voglio fare un piccolo approfondimento sulla danza di Okinawa cercando di identificare le principali versioni e andandone a specificare alcune caratteristiche e curiosità e qui c'è un'ultima parte che approfondisce proprio la danza di Okinawa la danza di Okinawa viene suddivisa in quattro stili principali di cui poi vi sono diversi sottostili ognuno di questi tipi di danza possiede delle caratteristiche contraddistintive che derivano da diverse condizioni storiche e sociali ogni tipo di danza racchiude e raffigura una particolare visione del mondo ed esprime i sentimenti della popolazione inizialmente le danze erano eseguite da soli uomini ma nel tempo anche le donne presero parte a quest'arte l'art e la danza insieme a quella della musica e dell'opera sono i simboli della cultura okinawense che è una cultura unica nata dall'assorbimento di alcuni elementi tipici delle culture con le quali quest'isola ebbe rapporti in primis la cultura cinese e quella giapponese ed amalgamante con la propria cultura una volta filtrati diversi elementi attraverso la sensibilità e l'estetica tipica dell'isola essi divennero parte integrante della società e le quattro tipologie di danza sono e adesso andiamo ad analizzare compiutamente questi tipi di danze una per una danza classica o di corte la danza classica è divisa in alcune sottocategorie che si differenziano per l'età dei protagonisti delle storie rappresentate troviamo la rojino dori o danza di persone anziane troviamo la vkashu odori o danza dei ragazzi troviamo la onnao dori o danza femminile e troviamo la nisaio niseo dori ovvero la danza dei giovani ognuno di questi ha delle particolarità e rappresentano diverse fasi di esperienze della vita umana la danza classica viene anche chiamata ukan shi nodori in contrapposizione a zodo ri le cui origini risalgono solamente alla seconda metà del periodo meiji che va dal 1868 al 1912 quando vennero aboliti i clan e furono istituite le prefetture la danza classica veniva utilizzata nelle dimostrazioni che si direvano in occasione dell'arrivo delle delegazioni cinesi queste esibizioni erano note come i sette banchetti e presero il nome di kansenodori o kanshinodori il significato di kansenodori era le prestazioni atte ad intrattenere gli invitati che hanno viaggiato fino alle ryokyu su una nave kansen le caratteristiche principali che le quattro sottocategorie della danza classica vogliono rappresentare sono rispettivamente roginodori pone l'enfasi sulla longevità kansenodori centrata sull'esuberanza e la gioia della giovinezza onnaodori esprime simbolicamente la sofferenza delle donne per evocare compassione e o pietà ni se ni se ni sai odori celebra il futuro dei giovani io spero di pronunciare correttamente questi termini però vabbè nel caso magari il maestro di stefano se dovesse vedere questo mio video magari mi correggerà con cui lo sto facendo in buona fede poi se ho sbagliato pazienza la danza classica veniva utilizzata anche in occasione dei frequenti viaggi di alcuni ambasciatori inviati nella capitale del clan giapponese dei Satsuma che aveva sede a Kagoshima e nella capitale giapponese che era Edo dove i nobili delle Ryukyu dovevano regarsi per affari ufficiali e cerimonie si può quindi affermare che l'arte della danza okinawense divenne più raffinata durante il periodo di dominazione da parte dei Satsuma che iniziò nel 1609 e durò sino al 1879 in quanto gli ufficiali che si regavano sul suolo giapponese poterono vedere dal vivo e rubare in qualche modo rubare qui scritto tra virgolette quello che ritenero più bello delle arti dello spettacolo giapponese e passiamo alla danza popolare o mista la danza popolare come anticipato precedentemente è nata all'incirca verso il 1879 quando Okinawa divenne una prefettura giapponese in questo contesto i membri delle classe privilegiata di shuri quindi nobili che svolgevano le arti di intrattenimento come le danze persero il lavoro alla loro classe sociale con il passare degli anni vennero costruiti alcuni piccoli teatri nei pressi della città di Naha precisamente nella zona portuale dove venivano fatte regolarmente rappresentazioni di danza classica o di kumi o dori una forma d'opera di cui poi il maestro Giordano parlerà nel proseguo dell'articolo quindi ci arriveremo che viene considerata la danza ufficiale di Okinawa in questo nuovo ambiente contesto socioculturale nata la Zodori che ha da sempre rappresentato lo stile di vita dei pescatori degli agricoltori e della gente comune e qui il maestro Giordano ritiene importante in questo preciso punto del discorso fare una piccola annotazione in quanto ci dice il maestro Giordano trovo che proprio qui si può ricercare un collegamento tra la danza delle arti marziali e infatti ci dice quando la nobiltà isolana perse in parte i propri privilegi dovette reinventarsi e per non perdere quello che aveva imparato durante gli anni passati a corte apportò delle modifiche alle arti che conosceva utilizzando e sfruttando quello che il nuovo stile di vita che intraprese obbligatoriamente gli offriva le danze una volta che furono per la prima volta osservate dalle persone comuni dell'isola risultarono troppo raffinate quindi non ebbero grande successo quindi i musicisti di ballerini professionisti si resero conto che erano necessarie delle modifiche per far sì che anche le persone con un grado di cultura di cultura bassa potessero apprezzarne i contenuti per quanto riguarda invece l'utilizzo delle armi una volta perso lo stato privilegiato di essersi ritrovati a svolgere lavori più umili queste persone iniziarono ad applicare la loro conoscenza bellica e marziale a strumenti che venivano usati quotidianamente durante lo svolgimento delle mansioni lavorative ecco come probabilmente il kobudo di kinawa è nato oppure si è andato a modificare proprio come avvenne per la danza non è escluso dal discorso anche il karate in quanto sempre per i stessi motivi vi era la necessità di non far morire quello che in duriani di addestramento gli ex nobili avevano imparato e quindi la danza risultava essere uno strategico veicolo per trasportare nel tempo tra l'altro in modo discreto quei segreti e quelle conoscenze marziali che erano state vietate probabilmente le tecniche marziali vennero inserite e camuffate nei movimenti dolci e lenti della danza ed in questo modo si mantenero vive e vennero trasmesse fino a raggiungere i giorni nostri chiusa questa personale riflessione del maestro Giordano che li riteneva però importante a questo punto prosegue con le altre due tipologie di danze tipiche dell'isola che penso qui ci stiamo avvicinando alla conclusione e ragazzi questo video sta venendo un po' lungo però secondo me ne valeva la pena sapete poi quante persone quanti youtubers fanno un video anche di mezz'ora addirittura no? però secondo me valeva la pena approfondire questo aspetto quindi passiamo a un altro tipo di danza che è la danza creativa moderna la danza creativa moderna è quella con una storia più recente ed è coreografata da ballerini moderni possiamo trovare tra le diverse rappresentazioni di questo genere io negli ultimi anni però giovani artisti che hanno studiato le arti tradizionali all'università della prefettura delle arti di okinawa hanno dato vita a nuove forme moderne di danza e teatro unendo anche elementi derivanti da altre arti dell'isola tra cui le arti marziali vi sono anche una sorta di musical ovvero teatro cantato che ha il nome di kageki ed anche una forma di teatro parlato chiamato serifugeki e qui il maestro Mario Giordano vuole menzionare un particolare che oltre a fungere da approfondimento sul Bruno Mai può aiutarci a comprendere ancora meglio i rapporti tra musica danza teatro ed arti marziali G. Kim Funakoshi nel 1914 scrisse in merito ad alcune danze rurali chiamate mekata dicendo che secondo lui questo tipo di danza e il karate antico avevano le stesse origini addirittura purtroppo questa danza si estinse dopo gli anni settanta del secolo scorso ed oggi è considerata come un'arte scomparsa negli ultimi anni si è sviluppata una forma di danza chiamata bunomai che è nata dall'idea di ridare vita al mekata combinandola con altre forme teatrali ed utilizzando anche dei movimenti e forme tipiche del karate e del kobudo quindi kata incorporando in alcuni contesti scenari storici le due danze però sono diverse e non vanno confuse quello che però è utile per la nostra ricerca è sapere che alcune autorità del karate hanno seguendo quando anticipato all'inizio del XX secolo da Funakoshi e di Hafuyu che scrisse un saggio sull'origine del karate nel quale attribuì l'origine ad alcune danze nelle quali si simulano degli scontri tra i due partecipanti al mekata che definiva essere una vera e propria arte marziale individuato una caratteristica in comune tra il karate ed il mekata che consiste nel modo in cui vengono utilizzate le mani nelle due discipline derivando il karate dal te mano giapponese che fa dell'uso delle mani appunto il suo punto forte l'origine di queste arti viene fatta risalire a tempi antichi e in comune tra loro Funakoshi Jikin sosteneva addirittura che il te derivava da mekata ed una volta fusosi con le arti marziali cinesi giunte sull'isola di questi ingredienti scusate giunte sull'isola questi ingredienti dell'origine al karate tra le forme di mekata vennero alcune che prevedevano l'utilizzo del bastone lungo quindi il bo in giapponese e probabilmente alcune di queste sono ancora vive e si possono trovare nei villaggi sparsi per l'isola e passiamo ora alla danza etnica o folcloristica questo genere di danza viene tutt'oggi tramandato di generazione in generazione in base alla località dell'isola ogni villaggio ha una o più particolare forme di danza ma ve ne sono alcune che sono riconosciute utilizzate su tutta l'isola alcune di esse sono shishinmai eisa e buduri queste arti popolari così chiamate perché vengono utilizzate durante le feste e gli eventi regionali sono vere e proprie attività di gruppo in quanto le persone ballano e cantano insieme la danza esa che è una tra le più famose anche sull'isola e scusate più famose antiche sull'isola si dice che abbia le sue radici nella danza buddista e arrivò sull'isola attraverso il contatto con la cultura giapponese inizialmente questo tipo di danza veniva utilizzato durante principalmente durante le feste finalizzate onorare gli antenati defunti ora desidero qui dice il maestro Emane Giordano prima di concludere quest'articolo fare qualche breve accenno anche alla musica okinawense che accompagna le danze e al kumio dori che è la forma teatrale dell'isola giusto per andare un po' a completare il tutto e qui parla proprio del kumio dori e andiamo a vedere di cosa si tratta il kumio dori è la forma teatrale dove danza musica e parole si amalgamano scusate andando a dar vita a dei racconti passati di generazione in generazione i contenuti tematici variano dalla maturità al romanticismo all'amore familiare fino ad arrivare a tematiche di vendette e violente uccisioni viene considerata come una proprietà culturale intangibile ed immateriale del Giappone ed è anche definita come una versione okinawense dell'opera europea molto belli e di pregevole fattura sono i costumi e le scenografie presenti nelle varie scene che sono frutto di una grande abilità nella produzione di prodotti artigianali di grande qualità i metodi utilizzati per creare questi prodotti risalgono al periodo tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo ovvero il periodo di massimo splendore per quanto riguarda gli scambi commerciali tra il regno delle Ryukyu con i paesi esteri ricordiamo per esempio anche i famosi scambi commerciali tra China e Okinawa parlando proprio della storia dell'origine del karate il cui odori risale al diciottesimo secolo più previsamente si dice che nacque nel 1718 quando fu creato da Chokun Tamagusuku che fu nominato magistrato di danza della corte reale quest'ultimo basandosi su alcune leggende delle Ryukyu sulle antiche arti di spettacolo dell'isola e traendo anche spunto dalle arti giapponesi creò questa forma di intrattenimento che inizialmente servia ad intrattenere gli invitati cinesi che giungevano sull'isola simile alle forme giapponesi del No e del Kyogen è stato tramandato fino al giorno d'oggi quando nel 2010 è stato registrato come patrimonio culturale dell'UNESCO e infine qui il maestro Giordano va a trattare l'ultimo aspetto che è la musica di Okinawa che ovviamente accompagna queste questi particolari tipi di danza e infatti qui dice che la musica è di fondamentale supporto agli spettacoli di danza tipiche di quest'isola tropicale e viene suonata da musicisti chiamati Jikata questo tipo di musica è composta da una parte da una parte cantata che prende il nome di Uta e da una parte suonata che prende il nome dello strumento utilizzato per creare la melodia ovvero il San Shin unendo i due termini si ottiene il nome con cui viene definita questa particolare musica di accompagnamento della danza Uta San Shin il San Shin è un yuto d'origine cinesi che in Giappone dopo qualche modifica divenne lo Shamisen ed ha un valore molto importante per il popolo dell'isola in quanto è uno dei simboli che maggiormente incarna le caratteristiche della cultura e dell'orientamento della società tipica dell'isola basti pensare che a differenza dalla cultura nipponica che aveva l'usanza di lasciare di generazione in generazione come cimelio di famiglia una spada ad Okinawa al posto dell'arma simbolo della tradizione del sapurai era il San Shin uno strumento musicale ad occupare una posizione simile a quella della spada questo dimostra come la mancanza di una tradizione orientata alla guerra ed orientata invece alla cultura come mezzo per intrattenere l'estraneo sono da sempre il marchio che contraddistingue la cultura delle ryokyo e arriviamo alla conclusione di questo video più lungo del solito scusate mi rendo conto che 40 minuti sono veramente tanti però secondo me valeva proprio la pena di approfondire questo argomento quindi arriviamo alla conclusione e qui il maestro Emmanuel Giordano ci dice quando si fanno ricerche sull'isola di Okinawa sulla sua cultura e sulle arti che si sono lì sviluppate non si può non venire a conoscenza dello spirito pacifico del popolo delle ryokyo questa particolare cultura ha quasi sempre cercato di evitare di risolvere le controverse con gli altri stati utilizzando la forza militare ed ha capito che la via della pace era la più efficace le origini delle arti sviluppatesi sull'isola sono cinesi giapponesi e anche da altri luoghi dell'asia ma sono tutte state filtrate attraverso il modo di essere tipico ed unico della cultura dei ryokyo molte di esse hanno origini in comune e comunque tutte hanno permesso di sostenere la vita spirituale e culturale delle persone di queste isole e per quanto riguarda il rapporto tra danza ed arti marziali che è il tema principale di quest'articolo qui dice il maestro Mario Giordano spero di aver dato qualche informazione utile interessante per chi desiderava conoscere quali possibili vicinanze queste arti hanno e allo stesso tempo spero di aver incuriosito chi non aveva mai preso in considerazione questo argomento invito tutti ad effettuare se interessate aggiuntive ricerche servendosi di internet in quanto io sono veramente molte fonti affidabili e ricche di ulteriori informazioni ovviamente questo è un invito che vestendo anch'io qualora vorreste approfondire ulteriormente l'argomento in lingua italiana dice il maestro Mario Giordano ho sempre fatto fatica a trovare materiale interessante soprattutto affidabile quindi mi sono permesso di prendere i dati più interessanti e tradurli come persone di elaborazione e qui si conclude l'articolo per concludere come sempre per maggiori informazioni potete leggere Karate Shorinryu Kata Karate Shorinryu L'eredità delle guardie di Okinawa La leggenda dei maestri di Karate di Okinawa Biografia con il misteri Manuale del Karate e del Kobudo di Okinawa allora ragazzi questo video è venuto veramente molto lungo sui 40 minuti e scusate se magari vi può sembrare un po' tedioso diciamo così tra virgolette però secondo me valeva la pena approfondire questo argomento quindi il legame tra danza e Karate che è molto interessante quindi perdonatemi se questo video è un po' più lungo del solito ma ci tenevo ad approfondire questo argomento vi prometto che poi i prossimi video saranno di durata più o meno normale bene io ho concluso questo mio video lunghissimo di oggi se il video vi è piaciuto mettete like commentate condividete e se i miei contenuti vi piacciono iscrivetevi al canale io vi ringrazio per l'attenzione sperando di non avervi tediato troppo e ci vediamo ad un prossimo video arigatou gozaimashita